musica 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 eccoci arrivati a verona ecco la rilea di verona stiamo facendo la fila una bella fila lunga 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 una fila una stanza supermercato sembravano un terremoto anche io devo stuare tutto ma non è che lo fa come c'è il senso siamo dentro la rilea musica 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 siamo seduti qui alla rilea di verona ecco qui la piazza una una macchina impastanza una rilea di detto che se si l'arena di Verona abbiamo visto l'arena di Verona questa cosa è piacere la c'è Giulietta no e l'arca scalice la pasta e fasoli la pasta di cavallo semplice bistecca di cavallo osteria dal duca cocode umaciano da vita abbiamo mangiato il cavallo e quindi questa è la casa di Romeo Giulietto Romeo to Giulietto romenonì minnowa ayo anche qua conimmo nipponkono acinimo nipponkono ecco le famose tombe scaligere che è un po' edizia la città è giù non è un po' è un po' non è un po' l'arca è un po' Si è un po' se si tratta con calma quindi era lui cangande, cangande della scala quindi da su si può salire con l'ascensore ed ecco c'è la famosa piazza dell'Aribeck perché una volta venivano a vendere e comprare l'Aribeck alla fine il negozio dovevi aver visto via e anche un pollo un pollo un pollo un pollo un pollo un pollo Grazie Grazie a tutti